La deprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, come sempre vediamo alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione, in apertura la cronaca con la notizia dell'incidente stradale che è avvenuto questa mattina a Casa Micciola in pieno centro, un giovane è stato investito da un'auto sulle strisce pedonali, ma l'auto non si è fermata per i soccorsi, indagano i poliziotti di Ischia. C'è stata poi un'aggressione, più o meno alla stessa ora, questa mattina presto, a Piazza Glieroia di Ischia, denunciati tre dominicani su questo tipo di azione, indagano polizia e carabinieri. Ha fatto il giro del web la notizia della sospensione di Don Gianfranco Del Neso che ha denunciato al Vescovo Lagnese la sua relazione sentimentale dalla quale nascerà un figlio. Parleremo poi delle riprese in corso nel mare a Ischia Ponte in elicottero per quanto riguarda il film che è in corso di realizzazione Man in Black. E poi c'è la pagina sportiva con il calcio, con l'Ischia che è stata battuta al Mazzella, mentre c'è un nuovo daspo per Aldo Marina. Il tifoso è stato giudicato questa mattina con due anni di daspo con obbligo di firma, 6 mila euro di multa e sei mesi con piena sospesa. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo subito dopo la pubblicità. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli l'ambiente giusto per crescere e giocare a calcio. Scegli La Futura Ischia, settore giovanile guidato da istruttori qualificati FIGC. Solo La Futura ti garantisce abbigliamento completo per l'attività sportiva, sconti presso i negozi sportivi convenzionati, servizio fisioterapia convenzionato, incontri periodici con medico posturale e nutrizionista, allenamenti anche al coperto, corsi di calcio per età dai 5 ai 12 anni. Sono aperte le iscrizioni. Per informazioni recarsi allo stadio Rispoli o telefonare al 320 26 22 060. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli La Futura. La differenza? Una questione di stile. La Raspata. Non solo gelati, congelati e surgelati. Da oggi anche salumi, formaggi, prodotti secchi e tanto altro ancora. Scegli le nostre offerte. La soluzione vincente contro la crisi. Chiamaci allo 081 90 27 56 o inviaci una mail a info at laraspata.it per conoscere le nostre proposte. Abbiamo il pacchetto adatto alle tue esigenze. La Raspata. Specialisti del buono. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. Quattro piscine. palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acqua Meno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli. Per una serata speciale. Per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche. Tra il cielo e il mare. Le terme. La grande ricchezza della nostra isola. Da sempre scelte dai turisti di tutto il mondo. Sfruttiamole per la nostra salute. Le terme di Ischia aprono le porte agli ischitani per tutto l'anno. Ogni cittadino ha diritto alle cure termali. Farle è semplice ed economico. È sufficiente la prescrizione del proprio medico curante o di uno specialista ASL. Se scegli di effettuare le cure termali sulla tua isola fai bene a te migliorando la tua salute e fai bene alle aziende locali che creano occupazione sulla nostra isola. Ad ogni cittadino aspetta un periodo di cure termali gratuite. Perché non farle? Le terme di Ischia ti aspettano per offrire benessere e salute all'isola di Ischia. Per una casa più sicura. Rivolgiti a noi. Rivolgiti ad EcoArt. I nostri professionisti sono in grado di realizzare le strutture per consolidare il tuo fabbricato. Le nostre officine sono la grande fucina dove nascono i prodotti per ogni infrastruttura. Ogni intervento sarà calibrato in base alle tue esigenze. I maestri artigiani di EcoArt provvederanno al montaggio in tempi davvero rapidi. Per vivere in tranquillità rivolgiti ad EcoArt. Un marchio Ecoferro per una casa sicura ed antisismica. EcoArt. Artigiani per il tuo ambiente. Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico EcoRad del dottor Renato Regine. Il centro EcoRad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico EcoRad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolordoppler, TAC multistrato, dentascan, MOC o zonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. EcoRad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. EcoRad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Casamicciola investe il ragazzo sulle strisce e scappa. Incidente stradale questa mattina a Casamicciola. In prognosi riservata il giovane. La polizia indaga ed identifica e denuncia il pirata. Lesioni personali aggravate. Denunciati tre dominicani. L'operazione congiunta di carabinieri e polizia. L'aggressione questa mattina nella centralissima piazza degli eroi ad Ischia. Io sto con Gianfranco. Il grido del web. Il sostegno dei social. Adò Gianfranco del Neso. Sospeso dal vescovo lagnese per aver denunciato gli stesso una sua relazione sentimentale dalla quale nascerà un figlio. Al via le riprese di Man in Black. Chris Hemsworth giunge ad Ischia. Spettacolari riprese in elicottero ad Ischia Ponte. Il commento dei commercianti del Borgo. Calcio. L'Ischia cade al Mazzella. Nuovo daspo per Aldo Marena. Prima sconfitta stagionale per il Giallo Blè. Rial Forio sconfitto dall'Afro Napoli per 3 a 1 e dopo il telegiornale a Bordo Campo in studio Enrico Scotti. Benvenuti al consueto appuntamento con informazione di Teleischi. Apriamo con la pagina della cronaca con l'incidente stradale che è avvenuto questa mattina a Casamiccio. Nalle prime luci dell'alba un ragazzo chiedo scusa è stato investito mentre attraversava la strada nei pressi dell'attuale municipio l'ex capiccio di Calise. La persona che lo ha investito probabilmente sotto shock per l'incidente non si è fermata per soccorrere il ragazzo ferito. Il giovanissimo è stato poi soccorso e trasportato all'ospedale dal 118. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. Il ragazzo resta ancora ora tardasera in prognosi riservata. Le indagini della polizia guidate dal vicequestore Mannelli sono scattate immediatamente. Nel pomeriggio il conducente che ha provocato l'incidente ed il grave ferimento del giovane è stato rintracciato e denunciato. E sono stati identificati e denunciati i tre giovani dominicani che questa mattina alle 8.30 alla fermata degli autobus di Piazza degli Eroi ad Ischia per futili motivi hanno avuto una discussione con una coppia di connazionali. Ad un tratto uno dei tre ha scagliato una bottiglia di vetro contro la vittima facendolo cadere a terra. Gli altri due seguendo il loro amico hanno continuato ad aggredire l'uomo a terra e poi si sono dati alla fuga. La vittima ha riportato lesioni lievi giudicate e guaribili in sette giorni. I carabinieri e la polizia prontamente intervenuti sul posto hanno accertato la dinamica dei fatti identificando i tre autori e denunciandoli per lesioni personali aggravate. E' stato celebrato questa mattina il processo per direttissima da Aldo Marena, affermato domenica pomeriggio in occasione della partita Ischia-Poggio Marino. Gli agenti del commissariato di Ischia diretti dal vicequestore Mannelli lo avevano sorpreso allo stadio Mazzella in violazione del DASPO il divieto di assistere a manifestazioni sportive. Il giudice ha accolto le richieste del PM e ha condannato Marena a 6.000 euro di multa e 6 mesi con pena sospesa. Inoltre sono stati aggiunti altri due anni di DASPO e di obbligo di firma in occasione di eventi sportivi. Da cinque giorni vanno avanti senza sosta le ricerche del 62enne israeliano svanito nel nulla la sera del 10 ottobre nelle acque di Capri dopo essersi allontanato per un'escursione in mare su un piccolo gommone. Anche del gommone non si hanno tracce. L'uomo faceva parte di una committiva in viaggio nel Golfo di Napoli con quattro barche a vela partite da Procida. Le attività di ricerca sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli e vedono in azione da giorni motovedette della Guardia Costiera di Capri e di Napoli ed elicotteri dei Vigili del Fuoco. Partecipano alle operazioni anche i carabinieri che hanno perlustrato senza esito con i battelli veloci, le calette, le insenature e le grotte dell'isola. Don Gianfranco Del Neso, 45 anni, amministratore parrocchiale della chiesa di Fiaiano, è stato sospeso dal Vescovo per aver denunciato egli stesso una sua relazione sentimentale dalla quale nascerà a breve un figlio. La notizia è stata diramata ufficialmente dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi e subito si sono affollati i commenti sui social. Sul profilo dello stesso Don Gianfranco se ne decanta l'onestà e l'umiltà. Vediamo. La notizia è stata rilanciata da un comunicato ufficiale dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi alle 18, proprio mentre il Vescovo si avviava ad iniziare la settimana di visita pastorale nella parrocchia di Porto Salgo. Don Gianfranco Del Neso è stato sospeso, non sarà più prete, ma farà lo sposo e a breve anche il padre. Monsignor Lagnese ne ha dato comunicazione al Clero e alla comunità parrocchiale di Fiaiano, dove Don Gianfranco prestava servizio, in qualità di amministratore parrocchiale, dopo il trasferimento del precedente parroco Don Emanuele Monte. Don Gianfranco Del Neso è stato sospeso dall'esercizio del Ministero Sacerdotale a causa di una relazione sentimentale con una donna di cui egli stesso ha riferito al Vescovo. Il Vescovo, fortemente addolorato per l'accaduto, ha riconosciuto l'onestà di Don Gianfranco nell'aver condiviso con lui la fatica di rimanere fedele all'impegno del celibato e ha dichiarato che il sacerdote intende assumersi tutte le responsabilità connesse alla sua nuova situazione di vita che prevede l'arrivo di un figlio. Don Gianfranco, un passato da idraulico, era stato ordinato appena quattro anni fa, all'età di 41 anni. È stato affidato all'Acquameno, dove celebrava la messa prevalentemente nella chiesetta Attigo all'ospedale Rizzoli, riscuotendo il consenso di tanti fedeli. Quindi la responsabilità dell'ufficio di pastorale giovanile Sport, poi il trasferimento a Feiano al posto di Don Emanuele. La notizia della sospensione di Don Gianfranco del Neso ha invaso i social. Qui, al grido «Io sto con Gianfranco» si susseguono sul profilo dell'ormai ex sacerdote messaggi di commento al suo gesto. Due sono essenzialmente i contenuti dei messaggi, la condivisione per l'onestà avuta nel manifestare la verità e la problematica più antica legata al famoso e contestato celibato dei preti. Sul profilo di Del Neso, uomini e donne, isolane e non, da ore si stanno affrettando ad osannarne l'onestà. Invece di vivere una doppia vita come fanno molti ha avuto coraggio ed onestà, è scritto in un post. C'è chi poi si rivolge confidenzialmente a Del Neso sottolineandone la lealtà e l'umiltà. Sei una persona leale ed onesta, solo una regola sbagliata come l'obbligo di celebrato per i preti ti ha obbligato a questa scelta. Se si possiede vera vocazione, si può essere marito, papà e ministro di Dio svolgendo il tutto in maniera esemplare. Arriva poi il post di un ex sacerdote come lui, passato allo stato laicale per crearsi una famiglia nel lontano Friuli. Bravo, scrive, sei onesto. Io ci sono passato 38 anni fa. Ora sono padre di due figli e nonno di tre bimbi. Sono felice ma non è stato facile. Anzi, forse i tempi sono cambiati, non lo so. Se ti serve una mano per quello che posso, io ci sono. E ci occupiamo ora della questione rifiuti a Forio, a Zaro, in una delle aree di maggior pregio ambientale della nostra isola, che in modo del tutto inopportuno è stata trasformata dal comune di Forio in deposito dei comuni della nettezza urbana, adesso arrivano anche i cassoni per la raccolta dei rifiuti. Lo denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. Se il sindaco del Deo ha intenzione di realizzare una discarica proprio nell'area di Zaro, lo dicesse subito, dice Borrelli. Noi siamo pronti a scendere in campo contro questa vergogna. Ormai non c'è nulla più che lasci presagire la provvisorietà di questa situazione, che dopo il parere negativo della sovrintendenza non può essere oltremodo prorogata. Siamo stanchi della presa per i fondelli dell'amministrazione che di tanto in tanto mostra planimetrie di terreni incolti senza l'ombra di progetti esecutivi. E sull'ultima notizia riguardante l'emergenza sanitaria dell'area NU in località Casale a Forio, all'interno dello stadio Salvatore Calise, interviene l'ex consigliere comunale Vito Iacono. In questa situazione, dice, non ci sono meriti ma solo responsabilità. L'ex capogruppo del volo già tre anni fa aveva denunciato il fatto. Con un intervento infatti a Teleischia il 9 novembre 2015, Vito Iacono denunciava i rischi infezione ai quali erano esposti i giovani calciatori che si divertivano al campo Calise mentre la Egoeco effettuava operazioni di travaso dei rifiuti. In quell'occasione il consigliere di opposizione era rimasto sorpreso dal silenzio dei genitori che non dimostravano alcuna preoccupazione per la promiscuità delle operazioni di NU. Il consiglio di gestione SIAE nel quadro delle numerose iniziative della società a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali ha disposto il differimento dei termini di pagamento degli abbonamenti musica d'ambiente per gli esercizi commerciali operanti nei comuni di Casamicola. L'acqua è fuorio colpita dal terremoto del 21 agosto 2017. In questi territori la scadenza del pagamento dei rinnovi annuali è stata prorogata al 31 ottobre 2018. La notizia è stata anche pubblicata sul sito ufficiale della SIAE. Domenica mattina si è svolta a Dischia la giornata ecologica. Soddisfazione è stata espressa dallo stesso sindaco Enzo Ferrandino. Iniziative del genere dice che hanno sempre una serie di finalità che sono per ovvi motivi ad ampio spettro. La prima, che ritengo fondamentale, è quella che gli ischitali debbano acquistare consapevolezza delle distanze da percorrere a piedi. E intenzione mia e dell'amministrazione che mi onoro di rappresentare, dice Ferrandino, quella di far diventare la Domenica Ecologica un evento con cadenza addirittura settimanale, specialmente nel periodo che dalla primavera conduce all'autunno e dove le condizioni meteo sono più favorevoli. Al via oggi i lavori su via Francesco Buonocore, una delle arterie più importanti per il centro del comune di Ischia. Lungo tutto la strada da oggi e fino al termine dei lavori è vietata la sosta a qualsiasi veicolo. Tra gli interventi previsti per la riqualificazione della zona, la realizzazione di nuovi marciapiedi, la sostituzione della precedente pavimentazione, un'integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione e la razionalizzazione dello spazio di sosta preesistente. Sono iniziati stamani anche i lavori per la realizzazione della rete del metano a Barano. Il primo intervento interesserà via Belvedere a Fiaiano. Sono iniziate questa mattina a Dischiaponte le riprese di Man in Black, ultimo capitolo della celebre saga cinematografica statunitense. Quella girata oggi è stata una spettacolare ripresa aerea nello specchio acqueo tra il castello aragonese di Miramare e Castello. In tanti si sono recati nel blindatissimo borgo attirati dalla curiosità per questo set hollywoodiano. Sull'isola è giunto intanto il protagonista maschile del film, il noto attore australiano Chris Hemsworth, che non si è sottratto alle foto con le fans. Ma vediamo se inizia. Sono cominciate questa mattina sull'isola le riprese di Man in Black, ultimo capitolo della celebre saga cinematografica statunitense, iniziata nel 1997 e continuata poi nel 2002 e 2012. Un vero e proprio set cinematografico in grande stile hollywoodiano è stato allestito a Ischiaponte per girare una spettacolare sequenza aerea sul mare. Gli elicotteri delle riprese hanno sorvolato il borgo per tutta la mattinata mentre un riva acquarama sfrecciava nello specchio acqueo tra il castello aragonese e il Miramare e Castello. La curiosità per le riprese del blockbuster hollywoodiano e la speranza di adocchiare qualche divo ha spinto molte persone in una blindatissima Ischiaponte. Intanto è giunto sull'isola Chris Hemsworth, il protagonista del film. L'attore di origine australiana ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo del dio del tuono Thor nel film della Marvel. Chris ha incontrato le sue fans e non si è sottratto neanche a qualche selfie di gruppo. L'attletico attore non ha rinunciato al workout quotidiano dedicando il pomeriggio ad allenarsi in palestra. Questa sera dovrebbe arrivare a Ischia anche la protagonista femminile di Men in Black, Tessa Thompson. Proveniente anche lei dall'universo cinematografico Marvel, Tessa ha interpretato Valkyria nel film Thor. Le riprese continueranno domani e dopodomani e riguarderanno anche Sant'Angelo. Il film è un fanta horror quindi è probabile che alcuni luoghi dell'isola saranno lavorati in postproduzione e forse non saranno del tutto riconoscibili nel lavoro finale. Ma ciò non toglie nulla all'importanza per Ischia di essere set di un film dal respiro globale. Ancora una volta le immagini del castello gireranno il mondo e parleranno di Ischia alle persone più lontane. Il pubblicitario del film Men in Black abbiamo raccolto il commento dei commercianti di Ischia Ponte. Sentiamoli. Riprese di Men in Black questa mattina a Ischia Ponte. Sono stati anche tanti turisti che si sono incuriositi da questo elicottero che sorvolava il castello e il mare di Ischia. Può essere un'occasione, una vetrina veramente internazionale per Ischia e Ischia Ponte particolari. Pietro tu che ne dici? Sì, no, senz'altro. Queste cose sono bellissime, sono importantissime e andrebbero cavalcate. La cosa importante è che quando succedono, quando accadono queste fortune, bisognerebbe cavalcarle alla grande, cioè Ufficio Stampa che fa un macello in tutta Italia e in tutto il mondo che stanno girando le riprese del film, le stanno girando a Ischia perché Ischia è talmente bella che attira anche Hollywood e tutti i più grandi registi del mondo. Quindi non ci deve bastare solo fare le riprese e parlarne tra di noi, ma sfruttare l'occasione per inviare nel mondo le immagini anche catturate dal set, anche inventate a volte e basta che facciamo girare le immagini di Ischia. Io credo che siamo diventati una delle mete cinematografiche preferite nel mondo, voglio dire, perché ultimamente, soprattutto Ischia Ponte, vabbè, voglio dire, Ischia Ponte c'è il castello, quindi figurarsi Ischia Ponte o Sant'Angelo, voglio dire, proprio come dislocazione naturale, si prestano molto. Ci mancherebbe che il film non è importante, ha bisogno della sua pubblicizzazione sfruttata da parte nostra, non che loro non si pubblicizzeranno il film perché spendono talmente tanti soldi che si pubblicizzeranno sicuramente. Le immagini di quando lo girano, per social lo facciamo molto, ci sta molto chi lo fa per noi, bisognerebbe sfruttare l'immagine proprio anche da parte delle amministrazioni perché ormai credo che siamo al terzo o al quarto quest'anno, quindi assolutamente. Poi speriamo che i punti più importanti dell'isola saranno ben chiari e visibili, questo lo sapremo soltanto, voglio dire, a nastro in sala e quindi sarà ben identificata la nostra isola, credo che quello sia fondamentale. Sicuramente il piacere di avere Hollywood o qualunque altro importante studio internazionale di cinematografia, Ischia Ponte è una cosa fondamentale, ma per l'isola stessa, per la Campania, insomma per i luoghi perché ovviamente la pubblicità è eccezionale, quindi oltre a dare lustro diciamo al luogo, porta anche sicuramente un risvolto economico perché spesso le maestranze eccetera comunque capita che vengono a spendere nei negozi come è successo con passate produzioni, quindi è una cosa positivissima. La Camera di Commercio di Napoli esce dal periodo di commissariamento iniziato il 2015 dopo la presidenza di Maurizio Maddaloni. Il nuovo consiglio si è infatti insediato e ha proceduto alla votazione per eleggere il nuovo presidente. Il più votato è stato Ciro Fiola, imprenditore partenopeo del settore alimentare e leader dell'associazione IceCut, una sigla sindacale alternativa a Confcommercio e Confesercenti. Ciro Fiola, ex consigliere comunale di Napoli, è padre di Bruna Fiola, attuale consigliere regionale della Campania eletta nelle file del PD. Per Fiola le porte della presidenza dovrebbero aprirsi definitivamente lunedì prossimo quando è prevista una nuova riunione del consiglio. Sono 17 membri appartenenti al mondo dell'iCast, cui si aggiungono un esponente della Col Diretti, un rappresentante delle cooperative e uno dei consumatori. In tutto 19 consiglieri che consegneranno la presidenza della Camera di Commercio a Fiola. L'associazione IceCut si è nel frattempo estesa a tutto il territorio provinciale, contatti con diverse associazioni di commercianti si sono avute anche sull'isola Dischi. Siamo alla pagina sportiva, il calcio eccellenza sconfitto in trasferta, Real Forio e Biancoverdi sono infatti stati battuti 3-1 dall'Afro-Napoli United. Vediamo la sintesi. Afro-Napoli, Real Forio, andiamo a leggere subito le formazioni. Afro-Napoli con Riccio, Gargiulo, Liguoro, Rinaldi, Velotti, Defensa, Dos Santos, Marigliano, Sogno, Diolivera, Suleimain. Real Forio con Delrico, Fiorentino, Arcamone, Piccirillo, Capuano, Iacono, Trofas, Annino, Longo, Savio e Varrella. Sessa giornata del campionato di eccellenza, vediamo per la prima volta solo in formazione dopo aver scontato le cinque giornate di squalifica. Inizia il match. Calcio di munizione per il Real Forio, ribattuto dalla barriera, poi Capuano lo ributta in area di rigore, Longo davanti al portiere e fa 1-0 per il Real Forio, quest'oggi in maglia arancione. Vediamo il colpo di test di Capuano, Longo in posizione regolarissima, davanti al portiere deve fare altro che appoggiare la palla in porta. Riparte l'Afro-Napoli con Dodò, uno dei migliori dei suoi, contatto con Delrico, fallo per il Forio, poi arriva Fiorentino, mette in angolo Ricco. ancora palla per Dodò che mette in porta, ma posizione irregolare del calciatore dell'Afro-Napoli che qui ha un'altra grandissima occasione, ma sbuccia il pallone, altro lancio lungo di De Oliveira, Fiorentino completamente a vuoto e Delrico fa un miracolo su Dodò, si fa anche male Delrico ed arriva la prima presenza per Sollo di Oliveira, cerca lo spazio, calcia in porta, palla alta. Ancora 1-2 con Sogno e Marigliano che calcia a lato, poi può ripartire il Forio con Varrella che è velocissimo, ancora Varrella arriva davanti al portiere, ma c'è un ottimo intervento di defenza, allora l'Afro-Napoli ne può approfittare con Sogno, 1-2, palla in mezzo per Marigliano che non sbaglia e pareggia i conti, 1-1, vediamo il gol di Marigliano. Primo tempo terminato sul risultato di 1-1, il secondo tempo vede ancora l'Afro-Napoli in avanti con Dodò che passa in mezzo a 2, calcia ma spara alto, palla sulla sinistra per Dodò che prova a mettere il cross che si divora su le mani, il gol del vantaggio, ma il gol del vantaggio arriva subito dopo con Sogno che mette in mezzo ancora per Marigliano, doppietta per lui e 2-1 Afro-Napoli. Si rivede il Forio in avanti con Trofa messo giù ma l'intervento è regolare sul pallone, dunque calcio d'angolo per il Real Forio, palla allontanata, altra palla in mezzo di testa, poi Iacono colpisce di testa che era in posizione regolare, poi Longo va sul pallone e lì il guardaline alza la banderina, la palla era entrata ma il gol viene annullato e sulla ripartenza c'è il gol del 3-1 di Redi e Rimi, partita chiusa e la partita termina anche qui, Afro-Napoli 3, Real Forio 1. Formicola non è più l'allenatore del Mondragone, il KO contro il Casori è stato fatale per l'allenatore, dunque la società ha deciso di cambiare con Iliano e Capaccione che restano in polo ma è stato contattato anche il mister Citarelli, la possibilità c'è stata ieri con un contatto tra la società e lo stesso tecnico, un contatto che però non ha portato ad un accordo con l'allenatore Campano che ha gentilmente declinato l'offerta, sono stato molto contento della chiamata del presidente del Mondragone, ci ha detto mister Citarelli, ma al momento non mi sento di accettare. Campionato di promozione, prima sconfitta stagionale in campionato per l'Ischia che non disputa una buona gara al Mazzella, il Real Poggio Marino si impone 2-0 grazie alle reti di Arcobelli al 40esimo e Cangianiello al 46esimo, vediamo le immagini. Polifischio d'inizio, parte Ischia, Real Poggio Marino, va Lucarelli col destro, palla sulla barriera, poi riprova col sinistro, la palla alta, non di moltissimo, altro schema, sembra quello di prima, parte Lucarelli sul centro area, la girata, la palla parata da Mennella. Parte Di Ruocco, il cross al centro, di testa Arcobelli e c'è il gol, non esulta, Arcobelli. Cosa inventeranno? Lascia Di Ruocco, non si è da dove era toccata, poi il cross verso Arcobelli, di testa a cursa, c'è il 2-0, arriva il gol. La punizione, Di Ruocco verso Arcobelli, contro la cursa, ancora Arcobelli, il tiro, la traversa. Intanto ecco il fischio d'inizio, riprende il match al Mazzella, c'è largo Marigliano, Di Ruocco lo vede, lo serve in questo istante, Marigliano in aria, il tiro. De Luise verso Abbandonato, attende la sola posizione di Di Maio, il cross al centro, Trani la traversa. Ecco il cross di Trani, salta, forse con un braccio, non c'è rigore. Lancia da verso De Luise, c'è il tocco per Invernini che si lancia, toccato duro, calcio di rigore, finalmente arriva il rigore. Gigio Trani col destro, il tiro e c'è la parata di Prete, incredibile. Schietta in bocca, termine in questo istante, l'ischia esce sconfitta dal Mazzella, la prima sconfitta stagionale, 2-0 dal Poggio Marino. Sabato scorso il Procida ha battuto allo Spinetti il quarto grad per 2-1. I bianco-rossi ritornano alla vittoria dopo le due sconfitte subite. Grande soddisfazione nell'ambiente, ma ascoltiamoci le interviste del dopo partita. Mi dispiace che non ci sono le immagini del Sant'Antonio Abbate, perché chiunque pensa al 3-1 di quel risultato, suppone che chiaramente abbiamo fatto una partitaccia e ci hanno messo sotto. Chi ha visto la partita, e tu sei uno di quelli che l'ha vista, sa perfettamente che noi abbiamo avuto due minuti di follia che ci sono costate poi il resto della gara. Il terzo gol è da considerarsi praticamente a tempo scaduto, per cui onestamente anche lì nessuno ci ha messo sotto. Oggi abbiamo giocato contro una signora squadra, messa veramente bene in campo, con alcune individualità importanti in questa categoria, come le abbiamo noi, naturalmente. Anche loro, persone come Di Matteo, Serino, per fare alcuni nomi su tutti, non hanno niente a che fare con questa categoria. Per cui questa è una squadra che sono sicuro che darà molto fastidio. Per il resto però voglio fare pure un applauso ai miei ragazzi e vorrei ricordare a tutti quelli che ogni tanto fanno qualche critichina gratuita, dicono qualche parola in più, questi ragazzi che sono due anni, che in totale hanno perso due partite. Quindi ogni tanto diciamo bravi a questi ragazzi e soprattutto quella che è la cosa principale, si ottiene 100.000 volte di più incoraggiando che con dei commenti secondo me gratuiti. Noi veniamo da due sconfitte, un po' a nostro parere immeritate, forse quella di Sant'Antonio ci poteva stare, anche se secondo noi sarebbe stato molto più giusto un pareggio, però nel calcio si può anche perdere, l'importante è dare il massimo, diciamo sempre, ai ragazzi. Quella del Rione-Terra è stata forse una partita un po' presa sotto gamba, però l'importante era passare il turno, anzi forse la sconfitta ci ha fatto crescere, nel senso che non bisogna mai mollare, non bisogna mai sottopadutare le partite. Oggi era fondamentale perché eravamo appunto, oltre di essere reduciti da due partite, ci tenevamo perché giocavamo comunque una squadra importante, una bella squadra rognosa, come si dice in queste categorie, è importante vincere queste partite con squadre che forse gli altri danno per leggermente inferiori, che però spesso non è così, quindi siamo soddisfatti. Era importante vincere dopo i due risultati negativi, anche se quello in Coppa non ci ha cambiato più di tanto siccome siamo passati, era importante vincere soprattutto perché in casa dobbiamo fare di progetto un fortino, fondamentale il gol, sì va bene, però chi segnava segnava andava bene, poteva fare anche i gol pianese facilmente, l'importante era vincere. Siamo tanti giocatori lì davanti, però con Lorenzo sicuro c'è un po' di più di feeling, ma è davuto al fatto che abbiamo giocato anche l'anno scorso insieme, anni dietro, ma con Raffaele anche facile da giocare, è un gran giocatore, è un giocatore importante per queste categorie e quindi mi trovo molto bene, Tony è un altro giocatore importante, quindi tra i giocatori importanti ci capiamo bene, non fa differenza chi gioco, una volta riposo io, una volta costagliolo, una volta pianese l'importante è vincere e fare più punti possibili perché vogliamo lottare per stare là sopra. E a proposito di calcio, stasera nuovo appuntamento con la diretta della trasmissione sportiva a Bordocampo, il commento. La trasmissione come sempre si occuperà con immagini e commenti degli incontri che hanno visto impegnate le squadre isolane nel weekend. In studio Enrico Scotti, l'ex allenatore della Camerina del Barano Thomas Di Nolfo ed il giornalista Simone Vici Domini, appuntamento quindi a tra pochissimo, subito dopo questa edizione del telegiornale. Domani ad Oiastro Cilento alle 18.30 sarà conferita la carica di ambasciatrice della Lega Italiana per la lotta ai tumori alla dottoressa Mariangela Mandia. La dottoressa è stata la prima in Italia a ideare il format It's Pink Time. La prevenzione, sostiene la dottoressa Mandia, deve far parte della nostra cultura. Mariangela Mandia è stata tra l'altro l'ideatrice dell'evento Bellezza in Scala che si è tenuto a settembre presso la vigna dei migli anni dell'avvocato Benedetto Migliaccio a Serrana Fontana. Ed ora, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. In montagna, molte nubi con deboli fiodigini. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Dunque, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Come dicevamo, vi lascio all'appuntamento sportivo del lunedì in diretta con a bordo campo il commento. E noi ci rivediamo invece, come sempre, all'edizione delle 14. Arrivederci. Grazie.